Ieri la presentazione della manifestazione nazionale CGL e UIL che si terrà anche a Taranto con i motivi della protesta insomma che probabilmente qui da quello che hanno detto i segretari ieri generali assume un ulteriore significato perché le pertenze del mondo del lavoro sono tante. Dovremmo avere in collegamento forse fra pochissimo speriamo. Giovanni D'Arcangelo, segretario generale della CGL di Taranto. Buongiorno e bentrovato. Dicevamo la protesta è nazionale ma quali sono i motivi che spingono ovviamente a scendere anche a Taranto a protestare? Ma sicuramente siamo di fronte a un governo che non affronta il tema della precarietà, della povertà, il tema dell'emergenza salariale, delle pensioni con una legge di bilancio che non guarda tutto questo, non guarda alla risoluzione dei problemi della sanità e questa cosa si riverbera sul territorio perché noi abbiamo notevoli problemi legati innanzitutto alla sanità, le liste d'attesa, i posti letto che non si attivano nonostante vengono liberati da Regione Puglia, le politiche industriali che su questo territorio sono abbandonate a se stesse potrei parlare dell'ex ILVA ma non solo, Leonardo, IAB, il Porto, ex Cementir, i temi della transizione che qua sono solamente annunciati, è uno sciopero che guarda ovviamente non solo al governo ma anche alla capacità del territorio di poter programmare e progettare le risorse che ad esempio stanno nel Just Transition Fund che comunque sono ancora ferme al palo. Arcangelo a Taranto non si scendeva in piazza praticamente da dieci anni, dai tempi dell'abolizione del Jobs Act se non ricordo male, può essere un segnale di ritorno ai temi reali vicini a chi ha bisogno? Sì, come ho specificato anche in questi giorni, chiaramente noi gli scioperi e le manifestazioni le abbiamo fatte anche in passato, però da un punto di vista organizzativo andavamo sempre a livello regionale, confluiamo le manifestazioni regionali, ecco adesso i livelli superiori delle nostre organizzazioni di CGL e Will hanno chiesto la possibilità di fare gli scioperi a Taranto e a Taranto noi, come anche in altri territori, questo non succedeva da dieci anni, nel 12 dicembre 2014 ai tempi del Jobs Act della manovra di bilancio del 2015 ed è importante per noi perché questi temi, approfitteremo di questo momento perché questi temi a Taranto vengono un po' messi in secondo piano quando in realtà rappresentano la carne viva di un territorio e di un tessuto sociale. Quali sono gli aspetti che vi preoccupano di più? Quello che ho detto sono tutte le avvertenze industriali che sono abbandonate a se stesse nella logica del libero mercato, penso a quella, l'avvertenza IAB che voi avete anche raccontato, lì abbiamo qualcosa come una nicchia produttiva di grande eccellenza che viene abbandonata senza che ci sia un indirizzo preciso politico, ma penso all'ex Silva dove noi continuiamo a chiedere che la decarbonizzazione non sia solo un annuncio ma una pratica reale da affrontare a partire dalla realizzazione dei forni elettrici, penso a Leonardo, a quello che il governo stava decidendo qualche settimana fa di abbandonare la divisione di aerostrutture, ma penso anche andando un po' nel piccolo sul nostro territorio, al fatto alla nostra vicenda dei 150 lavoratori degli appalti comunali che ancora non riescono a trovare pace, fino al 31 dicembre c'è una proroga e poi non si sa il loro destino. Quindi noi abbiamo più di qualche, penso al porto di Taranto che comunque anche lì si sta lavorando verso una diversificazione delle competenze, ci stiamo lavorando attivamente con la Regione Puglia e l'autorità portuale, ma anche lì siamo ancora lontani da una ripresa delle attività. L'appuntamento lo ricordiamo perché poi siamo in chiusura, è per il 29 di novembre alle 9 all'ingresso dell'Arsenale, se non ricordo male, giusto? L'Arsenale cominceremo il corteo che ci porterà per le strade di Via di Palma fino a Piazza Maria Immacolata dove si terrà l'intervento conclusivo della segretaria nazionale della UIL Enrica Mammucari, intervento delle delegate e dei delegati e anche del sottoscritto.